Quando ero piccola, mio padre mi insegnò a usare il fucile da caccia. Andavamo a caccia lì domenica, gli hanno sparato ma il suo assassino non è mai stato trovato. Dopo anni ho deciso di visitare la zona dove è stato sparato. Buongiorno. Buongiorno. Hai permesso per entrare? Certo. Posso vedere per portosia? Questa mi è nuova. Qualcuno che controlla licenza di caccia. Si insomma un cuore. Prego. Grazie. Non sparare cuccioli, ok? Ok. Ok. Grazie a tutti. Oh mio Dio. Cavolo. Questo ragazzino mi ha spaventato con una pistola giocattolo. La stessa cosa è accaduto prima che mio padre venisse ucciso. Il bambino con la pistola giocattolo. Per favore, per favore. Ce l'hai con me? No, no, no. Scusa, scusa. Dimenticate quello che ho detto. Era solo un sogno. Dimenticate quello che ho detto.